La parodontite o piorrea è la causa principale di perdita dei denti. Si tratta di un'infiammazione cronica che colpisce le radici dei denti, provocando un allentamento delle corone fino alla loro progressiva caduta. Se soffri di questa condizione, non è il caso di spaventarsi. Questa patologia riguarda milioni di individui affetti ogni anno. Per quanto spiacevole i rimedi esistono e grazie alla moderna implantologia di cliniche specializzate è possibile curare l'infiammazione, ricostruire l'osso mancante e tornare a sorridere. Trattare in profondità l'infiammazione e procedere alla corretta ricostruzione dell'osso sono due aspetti fondamentali che non tutte le cliniche dentali sono in grado di trattare al meglio. In questo gioca un ruolo fondamentale la presenza in clinica di chirurghi maxillofacciali. Rispetto alle cliniche low cost, la qualità delle nostre cure è sempre al primo posto. Nei casi in cui la parodontite ha causato la riduzione dell'osso, procederemo alla sua rigenerazione naturale per garantirti un sorriso perfetto e una masticazione stabile. Il nostro servizio premium include un team di professionisti, i migliori impianti dentali e una qualità certificata accompagnata da ricevuta fiscale scaricabile sul 7,30. Oltre al risparmio, la clinica Grammy si impegna a offrire un percorso sicuro e di alta qualità. I pazienti con parodontite possono accedere a consulenze video con i medici per approfondire il piano di trattamento e ottenere tutte le informazioni necessarie per una decisione informata. Se soffri di parodontite non perdere altro tempo. Richiedi un consulto medico online. Grammy Clinic. Regalati un nuovo sorriso.